Ciao a tutti ragazzi, questo è il canale di Vincenzo Marra e oggi faremo la parte quarta o quinta, scusate, non mi ricordo, di Pokémon 9 o altre cose. Ok, qua dobbiamo sconfiggere il capo palestra. Però mettiamo avanti il nostro stupendo Jedout, che nella scorsa è salito a livello 11 imparato di perraggio. Dove cazzo me ne vado? Ecco qui. Ecco qui. Ah ragazzi, ip non lo cattureremo più. E' un cattolano. Bello stupendo. Non siamo sassata. Che puzza. La cugina si è levata le pantofle. Non è vero, è lui che non leggera. Guardate. No! Hai visto come è lui? No. Per poi non sei a livello 12. Volete vedere come tengo le pantofle? No. Oh, Jedout... Stiamo a un minuto. E Jedout ha sconfitto Bigger. E' stato superficazio. E' superficazio. E' superficazio. E' superficazio. Non l'hai inciso a questo. E' una mossa di merda che l'ho cocolante. E' un brutto colpo. vai che schifo voglio e vai non potremmo usare frana siii abbiamo visto la nostra prima palestra siii e forse in questa parte cattureremo Mary che cazzo mi sta facendo arrabbiare no ah ascolta ok e ora andiamo a catturare il nostro quarantunesimo pokemon che cazzo dici dai oh lasciami stare lasciami si sta schiattando i prunfoli non è vero e' lui e' lui che sta schiattando i prunfoli non e' vero es super mo se è vero ha 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 hai sentito qualche urla che è un pezzato fermo fermo dove sei è caduto pure il telefono è andato ai piedi sono i suoi non è vero come faccio metto bene qua perché il telefono poi me lo prendi con le mani dimmelo proviamo il nostro secolo il vincenzo sta attendo qui avanti guardate i miei stanno qui no questi che avete visto sono i miei allora guardate questi sono i miei e quelli sono i suoi e oh cacchio per favore lo sto parlando prima ma cosa c'è dai basta ci vuol dire ma ce l'hanno di vedere puoi puoi sganciarli ma se prima non ce ne vuol ma se ti vuole strazianti si perché ma mette più in pasta no 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 è così meglio no 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 c'è che parte tempo ma non da poco ma che come fa a prendere l'uovo di toge ti guarda vero super pozzino è andato in queste cose dai vai a cagare commentate chi deve andare a cagare io offre il cugino no io oppure lui qui ci sono due sorelle che rompono i coglioni ok andiamo avanti Grazie. Ecco qui. Questo è il nostro prossimo. Eh, però è femmina. E' lei anche qui. Noi catturiamo. Guarda qua. Siamo che è un marito nostro. 6. 6. 6. 6. Usiamo sassata. Scherzo. E' morto. Ma tu ci... Ho stato un'azione! Un c***o. Un grande c***o. Un po' di sguardo. Un po' di sguardo. Un po' di sguardo. Un po' di sguardo. 8 minuti. se non lo cattiamo fuori dalla parte cattiamo femmina la batteria che scarica scocchio